Un travestimento che non è passato di certi inosservato quello scelto da Elio Restoriettese per la finale del Festival di Sanremo 2016. La band ha pensato bene infatti di mettersi nei panni dei Kiss e le foto della loro performance hanno spopolato nel web tanto che sono arrivate addirittura a Jan Simmons, il leader proprio del famoso gruppo americano. Simmons avrebbe scritto su Twitter Ehi, mandateci il video, ci piacerebbe vederlo. Dunque un riconoscimento che è arrivato oltre in poceano e che probabilmente Elio e Restoriettese non si aspettavano ma che effettivamente è arrivato. Complimenti vivissimi al buon Elio Restoriettese, alla band italiana si vede che il loro travestimento ha suscitato una certa idealità ed ecco che ha premiato per l'appunto la band italiana ma ha causato anche la popolarità e la fama veramente in ogni dole. Iscrivetevi, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate e una salute a tutti.